Grazie Bendini, resteremo comunque tutti qui uniti. Ci rimane solo questo, perché l'immagine oggi è la dimensione fondamentale della comunicazione, forse li può turbare il fatto che la loro immagine viene un pochino ferita, viene un po' umiliata, vedendo una massa di gente, ecco perché bisogna essere uniti e molti, anche molti. Speriamo che queste due dinamiche, la dinamica dello stare insieme, dell'unirsi e del viaggiare insieme per recuperare una solidarietà e la dinamica di ferire un po' l'immagine di queste multinazionali che sono, perdonatemi, sembrano, non lo voglio dire, ma sono veramente una parolaccia terribile, perché non sono in favore dell'uomo, sono in favore del denaro, sono in favore dell'economia. Speriamo che questo ci possa aiutare il governo ad essere forte e incisivo, speriamo. Lei è stato 26 anni qua dentro, quanto è cambiata la fabbrica e il mondo operaio? Totalmente, indescrivibile, perdona, ci stavo molto meglio con il cosiddetto padrone di un tempo, molto meglio, c'era molta più capacità di dialogo, di relazione, potevi guardarla anche in faccia, potevi dirgli anche una parolaccia, potevi anche trattarlo male, ma almeno parlavi con una persona. Adesso con chi parli? Parli con il vento? Con l'inesistente? Parli con chi parli? Sei in balia?